Quarto domenica del tempo ordinario. Abbiamo potuto iniziare con una stessa domanda e una presentazione di chi ci stava avanti. È giusto dire almeno il nome di chi presiede e chi serve questa situazione insieme a noi. Abbiamo la gioia di avere i suoi sacerdoti che arrivano questi dall'Italia e hanno alle spalle un'esperienza di vita assoluta anche nel mondo della solidarietà umana, soprattutto per l'attenzione verso il gruppo. Presiede la societazione Don Giuseppe Storpizia, che poi avrà modo di dire in più che spesso, che concede per noi Don Gaetano con lo pari di me. Per l'inizio diamo il nostro percorso benvenuti, uniti da voi nella bighiera. Desideriamo sentirci e dedicare e contribuire all'edificazione del mondo in cui facciamo fare. È la speranza che l'ascolto di Don Giuseppe ci rende persone nuove, sapaci di costruire per noi. Secondo la speranza che il Signore ha messo nel cuore di tutti i nostri. Continuiamo a tutti i nostri. Grazie. 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 italiana delle linee del prossimo sostiene le due famiglie a distanza. La complicazione delle suoi ossoline di Somasca, presenti nell'Imburgo a Berluslar, cominciarono a sensibilizzare le comunità e poi le singole persone all'adozione a distanza. Il numero delle adozioni crescevano ogni anno e siamo arrivati a 22 bambini. Le sue ossoline di Somasca hanno case in tanti posti nel mondo e anche se la loro casa a Berluslar è chiusa, le loro iniziative vanno avanti e le case dove servono sono attive e di fatti sono loro che pensano ad aiutare questi bambini là dove la vita è difficile. Le suole vi ringrazio della vostra sensibilità e della vostra costanza perché quando si apposta un bambino è aiutato a crescere sempre. Qua alla missione abbiamo diverse foto di bambini con le loro carte di identità. Se qualcuno è interessato siamo a vostra disposizione. Le adozioni costano 350 euro l'anno e riceverete un giornalino di dimestrale a casa dove potete vedere le attività che si svolgono nelle diverse case nel mondo. Il bambino che adotterete vi manderà ogni anno una foto con le abitudini di Buon Natale e quando vanno a scuola scrivono loro stessi. Tutto questo ci fa capire che noi non possiamo cambiare il mondo ma possiamo aiutare qualcuno che non è fortunato come noi a vivere tutto. sul cartellone vedete delle fotografie dei famigli della comunità di Winslach e di Winslach la vita è un grande mondo e noi dobbiamo dipenderla da tutti i pericoli fisici e morali. aiutare un bambino a vivere tutto non cambia il modo ma migliora la vita di una persona. grazie. 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 Allora, il Vangelo di oggi è legato alla prima lettura che... Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.